Ciao, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti all'interno del nostro canale di Io Programmo. Oggi sono in compagnia di Ivan. Ivan, adesso ve lo presenterò, è un tecnico che lavora nel settore alimentare all'interno e ha stretto contatto con dei macchinari, quindi una situazione e un settore molto importante come può essere tanti altri, per esempio anche il farmaceutico, è uno dei settori che va più di moda. Lui cosa è andato a fare? All'interno della sua azienda ci sono sempre state delle richieste da parte di tecnici, reperibilità, contatto, risoluzione guasti, quindi ricerca guasti, trovare il problema e dar fuori una soluzione. E Ivan si è differenziato da tante altre persone perché ha voluto direttamente mettersi in gioco e iniziare il percorso di formazione di Big Course con noi insieme al nostro team proprio perché voleva crescere a dei livelli in modo tale che poi un giorno potessi utilizzare queste competenze della programmazione IPLC a suo favore all'interno della sua professione e della sua vita. Ciao Ivan, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Ok. Io, come hai potuto vedere, ho anticipato al nostro pubblico che ci guarda un po' la tua situazione. Ti volevo chiedere, puoi spiegarci cosa succede all'interno del tuo mestiere? Che cosa stai facendo? Io sono, diciamo, come qualifica manutentore di sistemi di automazione. Nella mia azienda io adesso, come adesso, tiro cavi, collego motori, collego quadri, sensori, poi collado tutte queste cose qua in maniera che tutto funzioni. Wow. 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 Soprattutto motori, quindi su livello di impianti, livello di macchina? Sì, sì, sì. Tutto. Teomasica, retrovalvole, insomma, tutto. Quindi, se hai stretto contatto, pappa e ciccia, elettricista, meccanici. Ok, perfetto, Ivan. E noto già che questo è, visto che è un settore abbastanza particolare, il fatto di fare, immagino, dei collaudi ogni singolo mese, ogni singolo giorno, per quanto riguarda, ok, abbiamo un progetto, lo dobbiamo finire entro certi tempi. Immagino che ci sia, certe volte, ecco, per esempio, nella tua azienda ci sono delle tempistiche particolari, siete state viaggiando in modalità relax o siete sempre di corsa a fare i lavori o avete, come sono le vostre tempistiche? Diciamo che di norma abbiamo delle tempistiche normali, diciamo così, però può succedere che, visto che facciamo macchine per tanti paesi, che qualche spedizione viene anticipata e quindi dobbiamo darci da fare, magari certe cose, bypassarle, tante cose, e si finiscono sul posto. Sul cantiere direttamente. Le consegne devono essere rispettate, quindi poi se non si fa, cioè nel senso non puoi, se ritardi una, ritardi fino all'anno tante macchine, quindi diciamo che il 50% è una tempistica normale, poi si deve correre. Allora, direi che sono delle ottime situazioni, soprattutto perché anche in tantissime altre aziende, questo lo notiamo in tutto il mondo, non posso dire solo in Italia, ma in tutto il mondo, la situazione a certe volte c'è da correre, c'è da correre, c'è da correre ogni singolo giorno per finire quelle che sono i vari progetti, i vari commesse, spedirli il primo possibile. Già, il fatto che voi avete in azienda anche dei momenti di tranquillità, chiamiamoli così, vi dà la possibilità di sistemare, ragionare, organizzare, corretto? Si cerca, per dire, non per quei momenti di sistemare, per fare altre macchine più in tempi normali, ma non per, non abbiamo così tanto tempo da sistemare le cose. da riorganizzare, ma sul posto, sì, quando magari si collauda, però tante macchine non sono in linea, quindi certe volte nella costruzione della fabbrica c'è bisogno del nostro pezzo, quindi prima che parte la fabbrica, insomma, quindi... Mi viene da pensare una domanda, cosa è che ti ha spinto a registrarti al nostro percorso di formazione? Ora, là fuori, coloro che ci stanno guardando sanno benissimo che abbiamo un percorso di formazione, ma quello che non sanno come facciamo la formazione. Cosa ti ha spinto a registrarti, ma soprattutto cosa ti ha spinto a prendere fiducia in me, soprattutto perché sono la faccia di sicuro che avrai visto su internet, in tutte le pubblicità, in tutte le varie pagine? Cos'è che ti ha fatto a prendere questa fiducia nel nostro team? Diciamo che io da un po' di tempo che volevo fare questo corso, è capitato così che ho fatto delle ricerche, non so se su Facebook o su internet, e comunque ho visto anche il tuo programma, era convincente, quindi... Ero convincente, cioè questo viso, questa faccia? Diciamo, non è che io proprio da zero, vedendo la prima volta ho deciso di fare il corso, avevo già intenzione di farlo, solo che tu mi hai dato una spinta, quella giusta. Una spinta in più per poter fare azione? Sì, ci sono dei dubbi, perché comunque non è facile, bisogna impegnarsi e farlo, ti rendi conto dalle prime lezioni, insomma, che... Che c'è da darci dentro. C'è da darci dentro, ma è una cosa... Chi è partito a farlo, cioè chi ha pensato di farlo, la maggior parte penso che finisce con successo questo corso, insomma, perché comunque è una cosa che ti interessa, nel mio caso l'ho fatto a scuola e già da allora, da di 13 anni, e ce l'avevo sempre in mente, come... Come avevi un pallino nella testa a dire prima o poi come lo devo fare. Come ho detto di aumentare la mia conoscenza su quello... In quel caso lì era una lezione a scuola, però... Ho capito. Ecco, questa parte qua che appena ha detto del fatto che... Di andare, sì, a migliorare, andare ad incrementare, quindi a crescere, quello che sono le tue competenze, cosa intendi nel dettaglio quando dici questa frase? Sì, per essere più completo, perché comunque... Io facevo tante trasferte, adesso non faccio più... Per mia scelta, comunque. In trasferta mi trovavo con le mani legate a volte, perché adesso non so dirlo se per piccolo problema o per grande problema, visto che chiamavo il programmatore, lui mi risolveva la cosa. Ok. Così. Qui cos'è successo? Il fatto che tu adesso stai apprendendo, naturalmente sei ormai da diverso tempo, da diversi giorni all'interno del percorso e hai notato come stiamo lavorando, hai notato la differenza. Ecco, questa è una domanda che mi fanno soprattutto in tanti. Qual è la differenza? Se rimanessi nel limbo di vorrei fare un corso, non so dove andare, quindi non faccio niente, me ne sto nei miei angoli, le mie quattro mura di casa e non faccio niente, anzi piuttosto cerco su YouTube di guardare qualcosa, rispetto a seguire un corso del genere. Ecco, potreste dire alle persone che ci guardano qual è la differenza sostanziale tra seguire le lezioni di Big Corsa, quindi il nostro progrotto di front-end, rispetto a sto a casa e aspetto il momento buono? Per me personalmente il confronto, diciamo così, una volta, cioè una volta, le prime lezioni le ho capite solo confrontandomi con gli altri miei compagni che facevano le stesse mie domande, che alla fine è quello, cioè cercando di risolvere un problema, un po' uno, un po' l'altro, cioè all'inizio non capivo, tipo, i sistemi booleani, cioè quando parti, ovviamente se non ho mai fatto questa cosa qua, sei un po' tutto confuso. Poi facendo un po' di riunioni, diciamo così, con gli altri, per me il confronto che sento che fa la differenza perché posso fare domande, posso ascoltare risposte da quelle ho comprato per adesso di più. immagino, immagino tantissimo, anche io, tieni in considerazione, questo lo dico ormai da tanto tempo, io ogni singolo mese per tirare fuori di numeri spendo 3.000 passa euro per formarmi e darvi la migliore esperienza per quanto riguarda la formazione sul PLC della SEME, soprattutto perché noi ci concentriamo su questa famiglia. E quello che hai detto Ivan è molto importante perché molte persone là fuori si trovano in difficoltà proprio perché non trovano o una guida, una persona, un professionista, qualcuno che li guidi passo passo a fare determinate azioni, soprattutto passare da non conosco quali sono le basi della programmazione, pian piano imparo con qualcuno che mi supporta e soprattutto perché hai diversi strumenti a tua disposizione, il gruppo di supporto, le Q&A settimanali dove puoi interagire direttamente sia con i coach che con tutti gli altri studenti. Anche questa cosa qua che hai detto, il fatto che ti puoi comparare o confrontare e andare a dialogare direttamente o ascoltare direttamente, solo ascoltare, ascoltandolo impariamo tantissimo, soprattutto, questo lo noto anch'io mentre mi vado a formare. Quando ci sono altre persone che sono più avanti di me in determinati argomenti, già solo ascoltandone io vado a imparare tantissime cose ed è la stessa identica cosa che mi hai detto è successo anche a te, giusto? Sì, per me è così. Ok. Ok, guarda, Ivan, ti lascio con un'ultima richiesta così che possiamo mostrare al pubblico che ci sta guardando di che pasta siamo fatti e di che pasta sei fatto perché se sei entrato all'interno di questo percorso è proprio perché, come mi hai detto, vuoi arrivare a dei livelli di conoscenza sulla programmazione totalmente differenti da quello che erano qualche mese fa, qualche anno fa. Ecco, quello che ti chiedo, Ivan, è cosa consiglieresti alle persone che ci stanno guardando? sono tante cose che bisogna consigliare, non c'è una cosa sola. La voglia ci deve essere già. Provare, perché comunque non è una cosa impossibile, è difficile, sicuramente, ma penso che già io non programmando e risolvendo dei problemi su una macchina che poi la faccio funzionare mi dà soddisfazione. Mi immagino se solo pigiando dei tasti sul computer risolvo dei problemi mi sentirei ancora meglio, cioè, almeno nel mio. Provateci perché sarà, cioè, per me sarà divertente perché io l'ho vissuta così a scuola e quindi mi auguro che sarà anche al lavoro. È fantastico, Ivan. Sì, assolutamente voglio rilegarmi a quello che hai detto. Formarsi autonomamente va bene. Naturalmente sappiamo che formarsi autonomamente hanno dei limiti, ci sono dei limiti pazzeschi che soprattutto, come hai detto te, i limiti sono che non possiamo compararci con nessun altro che può essere o più avanti o più indietro di noi. Dobbiamo sempre compararci con noi stessi del giorno prima, dell'ora prima, del mese prima e cercare di capire se siamo riusciti a fare un passo avanti o se siamo in stallo o se addirittura abbiamo fatto un passo indietro. E di sicuro il percorso di formazione che già hai nelle tue mani più tutto il percorso che avrai davanti perché te lo assicuro davanti avrai tanti di quei programmi a cui partecipare che potrai partecipare che ti cambieranno la situazione da così e così come puoi ben sapere. abbiamo la membership che è il gruppo privato e lì veramente andiamo a fare progettazione partendo da zero facendo ricerca guasti proprio ci mettiamo lì programma la mano problema la mano troviamo l'errore in un gruppo di dieci persone soltanto quelli andiamo a vedere dove è il problema e in un modo o nell'altro ci dobbiamo saltare fuori il prima possibile e questo è quello che fa fare sia te che a tutto il gruppo l'evoluzione ok perfetto Ivan io ti ringrazio tantissimo salutiamo i nostri partecipanti tutti coloro che ci guardano con questo messaggio se sei un operatore se sei un tecnico se sei un manutentore elettricista meccanico una persona un libro professionista un'azienda che vuole intraprendere un percorso di formazione cerca di aprire gli occhi perché dietro l'angolo hai la soluzione io ti ringrazio Ivan e un salutone a tutti ciao